La nuova cultura ha cinicamente, spietatamente distrutto tutte le culture precedenti. Le stragi sono state anche quelle di culture, modi di vita, comportamenti. Ai modelli e valori distrutti la società dei consumi sostituisce modelli e valori propri che sono appunto quelli di una nuova specie di pochesia. Pasolini prima di tutto per me è un poeta. Noi certamente abbiamo sentito parlare, parliamo di Pasolini per tante altre ragioni di tipo politico, sociale, anche scandalistico volendo, però diciamo che per uno che fa l'attore di teatro l'aspetto che più affascina è proprio quello della poesia. Bisogna secondo me, parlo sempre a titolo personale, distinguere però tra il Pasolini romanziere e il Pasolini poeta. non perché lui cambi stile in modo assoluto, ma perché sono due tipi di ispirazione diversi. Però sia la prosa che la lirica si prestano molto a essere dette, anche perché sono proprio create parlando. Pasolini non fa dei versi stilisticamente ricercati, fa dei versi immediati e quindi dicibili. Lo spettacolo presenta il cadavere di Pasolini all'idroscalo di fronte al quale compare il suo spettro, cioè la sua anima, cioè lui in spirito, che in questo caso sono io, che guardando se stesso morto rievoca tutto quello che ha sentito e che è successo da quel giorno in poi o anche prima di quel giorno. Fa una specie di visitazione di se stesso e dell'Italia e alla fine finisce per raccontare anche la sua morte e quindi l'episodio che ovviamente nessuno può dire esattamente come sia successo. Per ricreare la spontaneità bisogna farlo non naturalmente, non direttamente. Bisogna ricostruire su se stessi il meccanismo fisico col quale si parla, si respira, si emette la voce, le parole e riuscire in qualche modo a sembrare naturale. Ma è un sembrare. In teatro è tutto un sembrare. Se si è a teatro si è delle persone che stanno lì che non sanno bene perché. Soltanto a priori si può capire e fare le cose che poi a teatro si rappresentano. Ma devo dire come peraltro dico sempre ogni volta che me lo chiedono che il mio più grande insegnamento l'ho avuto proprio da Orazio Costa che è stato il mio primo e massimo maestro che mi ha fatto capire proprio la necessità di fare di se stessi uno strumento per poter poi suonare la musica che si vuole suonare perché se no da sola può uscire per caso ma invece noi dobbiamo essere padroni, totalmente padroni della tecnica per usarla e annullarla in qualche modo. Mi ha fatto capire quanto si deve anche faticare per arrivare veramente a qualcosa di più come dire assoluto. Questo è tutto sommato un insegnamento che vale credo proprio per tutti ma chi lo ha ricevuto da un maestro lo ha capito di più e quindi è più difficile che lo dimentichi. Io leggo, sì non è che sono un grandissimo lettore soprattutto non è che dedichi gran parte della mia giornata a leggere per cui un libro ci metto parecchio a finirlo però leggo costantemente. Quanto riguarda prodotti di teatro ne leggo abbastanza perché me li spediscono. me li propongono. Io faccio sempre questa obiezione agli autori, sempre, molto spesso quasi sempre, questa obiezione che gli manca un linguaggio, cioè sono storie magari credibili, personaggi che ci sono ma si esprimono in un modo che non ha una sua evidenza, diciamo pure stilistica, il che non significa che debba essere un linguaggio raffinato, anzi può essere anche un linguaggio da coatti ma purché sia una necessità dell'autore, di fatti tutti i classici si sono inventati un modo di esprimersi. Il mio personaggio aveva una scena in più che secondo me gli dava una dimensione più interessante perché invece di essere solo un cretino che si occupa di cucina era un cretino con qualche fantasia perché andando nel bosco a cercare le puzzole come dice seguito da un codazzo di mondani trova il luogo delle puzzole che lui dice iksunt puteole perché lui parla così in latino quando può, si gira e non vede più nessuno e rimane molto male perché è da solo e sente un canto da lontano e vede una donna vestita di veli che canta una canzone dolcissima canzone d'amore e lui rimane stupito e rapito da questa cosa, ha una specie quasi di immaginazione di o di vedere un angelo essendo un prete o di rimpianto di un amore che non ha avuto, è una scena breve che peraltro a Sorrentino era anche piaciuta e che soprattutto aggiungeva qualcosa a mio pensato, però capisco che insomma i film sono sempre molto troppo lunghi e quindi ognuno può soffrire per conto proprio. Mi ricordo il coniglio alla Ligure che bisogna spezzarlo in tanti pezzi, poi la cucina e proprio non la frequento quindi ci vogliono, non so che diciamo le olive taggiasche, mi raccomando, ecce coniglio alla Ligure, infatti poi dicevo ecce icsunt putidule, le puzzole insomma in latino tradotte in putidule, ecce coniglio alla Ligure. Grazie a voi dell'attenzione, vi faccio tutti i miei migliori auguri di buon lavoro e spero di vedervi, oppure che voi vediate me, ecco insomma di vederci. Ciao ciao, ciao ciao.